Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio, poco prima delle 15, sulla provincia delle 13 a Busano, a scontrarsi al bivio della Rocchetta una Fiat 600 Sporting e una Renault Pio. Dopo l'impatto la 600 ha battuto un palo segnalettico ed è rimbalzata contro un muretto piegando una barriera pedonale. Sul sinistro è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Lanzo, il bilancio di due feriti non gravi medicati sul posto. Grazie a tutti!